Sanità valdianese allo stremo, mentre l'attenzione è tutta rivolta all'emergenza Covid, in altri reparti dell'ospedale Luigi Curto di Polla emerge una situazione critica per ciò che riguarda l'assistenza ad altri pazienti. Una criticità che si registra in particolare in tre reparti e che ormai è nota da tempo, l'unità operativa di pediatria diretta dal dottor Teodoro Stoduto, l'unità operativa di ortopedia diretta dal dottor Antonio Caronna e l'unità operativa di ostetricia e ginecologia, il cui responsabile è il dottor Francesco De Laurentiis, da diversi mesi, anche anni, sono costretti a fare i conti con carenze di personale che costringono gli operatori in servizio a turni massacranti. Secondo quanto emerge, a nulla sono valse le ripetute richieste di immediato intervento da parte degli enti preposti e gli inviti rivolti alla politica locale nella speranza di pressioni capaci di risolvere la situazione. Da mesi pare si va avanti con situazioni difficili da gestire, a cui si unita anche l'emergenza Covid, che aggrava ulteriormente il peso della gestione già difficile dei reparti. Come quanto accaduto presso il reparto di ostetricia e ginecologia del Curto, dove una paziente ricoverata per la necessità di effettuare un intervento, è risultata positiva al Covid-19. Un caso che ha costretto alla chiusura del reparto e alla gestione da parte dei responsabili dell'emergenza, che pare sia in via di definizione con la possibile riapertura del reparto entro la giornata di domani. Per la paziente, infatti, si è reso necessario il trasferimento presso altro presidio programmato per oggi. Altrettanto critica poi la situazione dell'unità operativa di ortopedia, dove è stata disposta la chiusura del reparto per tutto il mese di marzo, ossia a partire dal 3 e fino al 28 marzo, per consentire riposo biologico e medici in servizio. Due, i medici che operano presso l'unità operativa di orto Traumatologia del Curto, indisponibili nel mese di marzo. Un medico per ferie dal 3 al 14 e il dottor Caronna dal 14 al 28 marzo, che dovrà osservare il necessario riposo biologico. Per tutto il mese, quindi, in servizio resterebbe un solo medico, che comunque non può coprire tutti i turni per un periodo così lungo. Una situazione di emergenza che si era creata già tra giugno e settembre del 2019, quando il servizio presso il reparto di ortopedia c'era un solo medico disponibile, ossia il dottor Caronna, che con sforzi sovromani ha comunque mantenuto attivo il reparto. Ora però, dovendo per obblighi di legge osservare il riposo biologico, è stato necessario disporre la chiusura del reparto, inviando comunicazione al direttore sanitario dottor Luigi Mandia e al responsabile del pronto soccorso, in cui ha annunciato l'impossibilità di effettuare ricoveri presso l'unità operativa nel periodo indicato. Un problema a cui si sta cercando di porre rimedio, anche se resta evidente, come in diversi reparti del curto, sono costretti a fare ogni volta sforzi enormi per tamponare le emergenze, che nel caso del reparto di ortopedia si verificano regolarmente ormai da diversi anni.